Sia lodato Gesù Cristo Un saluto carissimo a voi che ascoltate Festa oggi di tutti i santi I santi quelli che conosciamo, canonizzati quelli che ora non conosciamo ma che il Signore ha con sé in gloria Chi sono i santi? Ecco ce lo dice la rivelazione dell'Apocalisse sono i segnati coloro che in un mondo devastato dal male e devastante anche e specialmente coloro che credono nel Cristo vivono costoro e sono segnati da Dio e estratti fino a far entrare in cielo nella gloria perfetta in forza della purificazione che loro hanno avuto immergendo le loro vesti nel sangue dell'agnello Sono dunque dei purificati coloro che hanno voluto, chiesto, accettato di essere purificati al sangue di Cristo e non sono coloro che si autoglorificano o pensano di autosantificarsi coloro che pensano di diventare altro o di sopravvivere a questa vita senza Dio senza passare da Cristo I 144.000 Chi sono? Sono i primi e i primi sono sempre coloro più provati sono i grandi eroi li ritroviamo descritti anche nelle beatitudini le beatitudini appunto la beatitudine è lo stato che caratterizza il santo è beato cioè è nella pace, nella serenità è immerso in Dio già adesso qui sulla terra pur essendo tribolati perseguitati afflitti a causa del nome di Cristo coloro che desiderano il bene coloro che desiderano la verità, la giustizia coloro che desiderano la pace e sono operatori di pace coloro che per questo aggiungono ai comandamenti l'amore per la perfezione condividono il cuore stesso di Dio che chiede questo ai suoi figli e l'umanità ma ce n'è un piccolo gruppo che sa fare questo, esegue questo sono chiamati, beati coloro potremmo aggiungere che rispondono alla chiamata e dunque sanno essere secondo il cuore di Dio ad immagine del suo Cristo lavati dal sangue del suo Cristo dunque le perfezioni cristiane la perfezione cristiana e le perfezioni delle virtù sono quei cammini particolari che vanno ben oltre al ho fatto quello che devo fare non ho disobbedito ai comandamenti ma è l'esercizio puro dell'amore che mi chiama a condividere la sofferenza del Cristo perché il mondo possa essere svegliato chiamato e a uscire fuori dal peccato e a setare la sua redenzione poi segue questo gruppo una miriade una moltitudine immensa di ogni lingua tribù, popolo, nazione che seguono questo luco questo luco sono gli api porta sono coloro che nella loro perfezione sono la via esemplare per tutti gli altri che forse non hanno avuto questo ruolo questa opportunità di essere vicini discepoli di Cristo e dunque insieme a Lui nella persecuzione e nel condividere insieme a Lui la beatitudine dell'amore del Padre nel soffrire per la salvezza delle anime i santi dunque sono i chiamati e coloro che hanno risposto con pienezza e totalità della propria vita siamo tutti chiamati alla santità ma un conto è la santità eroica ecco il martire un conto è la santità raggiunta dopo quello che è il purgatorio ovvero uno stato di purificazione della sofferenza perché il nostro amore per Dio e dunque per i fratelli si purifichi da ogni forma di egoismo siamo tutti chiamati a raggiungere Cristo ma ce ne sono alcuni chiamati a corrispondere a Lui con una pienezza sono i seguaci i servitori coloro che servono anche ad aprire le porte ad altri infatti le grazie e gli aiuti dei santi sono quelle che ci aiutano non tanto a superare questa o quella difficoltà terrena ma mostrarci un cammino e aiutarsi nella grazia di crescere nella santità per essere là dove essi già sono il mondo dunque è tribolato da una lotta terribile che si accanesce contro i santi di Dio perché essi sono il riflesso sulla terra della sua luce eterna della sua bontà della verità dell'eternità e contrasta con gli scopi dell'inferno che invece sono oscurità ignoranza inganno falsità per poter ingannare portare con sé le anime all'inferno portarle a condividere con pienezza il suo peccato da questa pienezza noi siamo chiamati a uscire fuori viene svelato il nostro capo i nostri occhi vedono e vedendo rinunciano al peccato che è dentro di sé e che è parte di sé sì che l'anima può come staccarsi essere staccata sbiancarsi essere purificata santificata per la forza di Cristo perché rigetta il male connaturato in sé ma che non fa parte dell'anima originale così come Dio l'ha creato e l'ha voluta ma fa parte di quell'innesto dell'anima a quel corpo e dunque questo corpo di morte è come dice San Paolo che inquina l'anima beati coloro che sanno affidare la propria anima al grande lavandaio il grande purificatore il santificatore Gesù Cristo e al suo sangue dunque che rende candide le nostre vesti e ci rende capaci di stare di fronte a Dio Padre Dio vi benedica a Dio Padre a Dio Padre Grazie a tutti.